Cari amici Canicatti Web, oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere ospite del nostro giornale, il senatore Mario Michele Gianlusso, senatore bentrovato, benvenuto dalle nostre parti, segue una tappa del suo tour per la presentazione di questo straordinario libro, perché io ho avuto modo di leggere il quarto di copertina, mi prefiggo di leggerlo per intero, ed è il voto di scambio politico mafioso, un argomento assolutamente attuale, anche se alla luce... Un corso di svolgimento probabilmente. Assolutamente sì, nel senso che è un vizio che... Preparliamo qua. È probabile che sì. È da fare per le elezioni comunali. Esattamente, questo si può verificare, però voglio dire, io voglio fare una riflessione insieme a lei, al netto di quelli che sono i passaggi legislativi contestabili che si possono mettere in discussione e che lei sta facendo oggi, è membro della commissione antimafia. Ero membro nella diciassettesima legislatura, appena si ricostituirà la commissione chiederò di farne parte. Assolutamente. Questo libro è la sintesi di un ragionamento che l'onorevole Gianrusso, insieme ad Andrea Leccese, fa a proposito di quelli che sono i meccanismi legislativi che in qualche modo hanno favorito il voto di scambio. Hanno favorito la mafia. Hanno favorito la mafia e soprattutto non hanno consentito al nostro Stato, all'Italia, di battere le mafie. La domanda perché non riusciamo a sconfiggere la mafia, abbiamo scritto il libro per fare capire ai cittadini che cosa succede in Parlamento e da là possono dare una risposta molto semplice su perché non riusciamo a battere la mafia. Senatore Gianrusso, cosa significa proprio sul territorio l'applicazione di questa, chiamiamola, squallida tradizione, cioè di quella di scambiare piccole fette di povertà con piccole o meno grandi fette di potere? Ma significa svendere la più grande ricchezza che ha ciascuno dei cittadini, lo spiegherò nel mio intervento perché il reato di voto di scambio politico mafioso è il reato più grave che può essere commesso in una Repubblica, perché priva i cittadini della loro sovranità. Ma nel senso di essere sovrani, il sovrano è chi sceglie. Il sovrano una volta decideva tu amministrerai questa contea, tu amministrerai quell'altra contea, il potere di scelta di chi amministra. Adesso nelle nostre città i cittadini si accingono a scegliere chi dovrà amministrare, per esempio Ravanusa, Grotte, Catania, Messina. In questo potere di scelta è un potere che prima spettava i sovrani, adesso grazie alla nostra Costituzione spetta i cittadini a cui spetta la sovranità. L'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo. Quando si inserisce in questo meccanismo il voto di scambio, il cittadino, il popolo italiano, cessa di essere sovrano e torna a essere suddito. Ma suddito dei poteri più squallidi e pericolosi e micidiali che si siano mai visti nella nostra Repubblica in 70 anni. La corruzione è la mafia, letteralmente un assassino della nostra democrazia, il reato più grave che può essere commesso in una democrazia, la morte della democrazia. Lei nel libro affronta, al netto di quelle che sono i percorsi che bisogna fare giuridicamente, anche l'aspetto sociologico del problema. Perché l'aspetto sociologico è quello che poi si riverbera su quella che è la qualità della vita delle nostre città, delle nostre comunità. Io, premesso, non credo, devo dire la verità, gli aspetti sociologici. Cosa nostra è una situazione criminale, non è sociologia, non è atteggiamento, non è cultura, è semplicemente un'organizzazione criminale che nel nostro Paese ha prosperato da più di 150 anni grazie al connubio con la politica. L'aveva capito Giovanni Falcone e aveva fortemente voluto l'inserimento del codice penale del reato di voto di scambio politico mafioso. Non è vissuto abbastanza per vederlo, anzi c'è voluta la sua morte perché venisse inserito. Ma quell'inserimento è stato contrastato, io ritengo, proprio da quelli che il voto di scambio lo praticano. Lo praticavano e quindi erano terrorizzati dall'idea di avere nel codice penale una norma che potesse veramente condannarli in maniera efficace. Lo hanno fatto nel 92, lo hanno ripetuto esattamente in maniera ancora più grave nel 2014. Ecco, io racconto, è una narrazione dei fatti accaduti in Parlamento, non è un libro tecnico-giuridico, non parla del diritto penale, parla del diritto vivo, cioè quello che nasce nelle aude parlamentari e di come questo sia stato tradito dai soggetti collusi, con le mafie e corrotti presenti in Parlamento. Io voglio concludere questa piacevole chiacchierata con una riflessione, voglio dire, a quattro mani. L'ultima tornata elettorale però ha dimostrato che in qualche modo il voto sta tornando ad essere comunque libero da questi meandri così opachi, se vogliamo, no? Allora, bisogna dire che il voto di scambio c'è e ha pesato comunque, ma stavolta molti cittadini liberi che magari prima rimanevano a casa sono andati a votare. Hanno creduto nel cambiamento e soprattutto in Sicilia questo ha assunto le proporzioni enormi di una rivolta di popolo, perché pensare io nel collegio della Sicilia orientale, con la lista del Movimento 5 Stelle, abbiamo conseguito quasi il 50% dei voti. Sarebbe stato impensabile. Una cosa impensabile, nemmeno la democrazia cristiana di tempi d'oro aveva raggiunto questi livelli. È chiaro che questo non è un voto politico, è una rivolta di popolo che chiede alla politica vogliamo voltare pagina, vogliamo cambiare. Cosa vogliono cambiare? Vogliono cambiare la politica marcia, malata, corrotta. Ovviamente non va fatto soltanto in Parlamento, bisogna ricordarci di cambiare questa politica marcia e corrotta lì dove viviamo, perché voi non vivete a Roma, vivete a Ravanusa, a Grotte, a Catania, a Messina. È là che dobbiamo cambiare la qualità della vita e per cambiare la qualità della vita in meglio, in meglio, dobbiamo cambiare gli amministratori. Eravamo veramente quattro gatti, io mi sono dovuto candidare come capolista in tre province, alle regionali, Giulia Grillo in altre tre, perché mancavano semplicemente i candidati. Adesso Giulia Grillo è ministro, io sono per la seconda volta in Parlamento, abbiamo la maggioranza relativa in Parlamento, è successa una cosa straordinaria ed impensabile. Ecco, cerchiamo di fare qualcosa di straordinario ed impensabile anche ad Agrigento in questa provincia, ce n'è tanto bisogno. E allora io ricordo a coloro i quali volessero leggere questo interessante volumetto che si legge tutto ad un fiato dell'Armando Editore, il voto di scambio politico mafioso e un libro da legge anche sotto l'ombrellone per quest'estate. Grazie per essere stato con noi, ci si vede presto. Grazie a voi per il vostro lavoro, per la vostra voce libera e indipendente. Rimanete tali. Ci proviamo e penso che ci riusciamo pure. Grazie a voi per la vostra voce libera.